Il comitato No Canal, siamo tutti gli amici di No Expo e la nostra lotta è sempre più difficile, è sempre più dura. Il comitato No Canal adesso è stato scombrato dal cantiere di Via Pellini, è stato scombrato con la forza, perché la via d'acqua deve andare avanti, la via d'acqua nonostante gli arresti, nonostante le dichiarazioni di sala del 25 febbraio scorso che non sarebbe più passata dai parchi, invece passerà dai parchi e va avanti lo stesso anche se è inutile, anche se non serve a niente e va avanti semplicemente perché ci sono le forze dell'ordine che dipendono l'impresa Maltauro e questo non è giusto, per cui chiamiamo a raccolta tutti i cittadini per sabato 28 al cantiere di Via Pellini a dimostrare, manifestare contro quest'opera inutile che si deve assolutamente fermare, non deve devastare quattro parchi cittadini, siamo veramente stufi di opere inutili che devastano il territorio e siamo completamente solidari con gli amici di Genova che sono sotto l'ennesima tragedia, perché Genova non è stato fatto quello che dovevano fare e sono state invece fatte una serie di stronzate come questa via d'acqua a Milano, perché i soldi della via d'acqua non vengono dirottati per evitare l'esondazione del Seveso, la via d'acqua non serve a un cazzo, non serve a niente, l'abbiamo dimostrato, non serve a niente, smettetela con la via d'acqua!